Buongiorno da Edo, oggi notizie veloci perché sennò è tardi e non riesco a fare niente. Vi volevo solo dire in introduzione, soprattutto l'introduzione, per concludere la nostra serie su Sam Bankman Fried. Vi ricordate Bankman Fried, il capo di FTX, il fondatore di FTX, quel mega exchange mondiale di criptovalute, che poi si scoprì, faceva dei traffici strani con un'altra società che lui aveva creato, Alameda Research. Insomma, per questo e per aver sottratto fondi ai portafogli dei propri clienti che mettevano i loro wallet con le criptovalute su FTX per vivere una vita lussuosa, infine fu incriminato, fu arrestato, adesso si è chiuso il processo e il giudice gli ha dato 25 anni di carcere. La difesa ne chiedeva 6, l'attacco invece, l'accusa ne chiedeva 50, insomma il giudice ha deciso per 25, tra l'altro lamentandosi del comportamento incredibile tenuto da Bankman Fried durante tutto il processo, che cercava di sviare le domande, cercava insomma di essere un po' evasivo, insomma il giudice non ha gradito, ma in ogni caso gli ha dato 25 anni di carcere. Questo chiude un po' la parabola di Sam Bankman Fried e anche di questo podcast che ha seguito questa vicenda fin dai primi attimi, da quando abbiamo detto che c'era appunto un crollo, un crash di FTX possibile in cui Bankman Fried sembrava avere qualche responsabilità, poi iniziarono le accuse, iniziò il processo, e insomma seguimmo un po' tutto, vi lascio qua da qualche parte il link delle volte in cui magari abbiamo parlato un po' meglio, abbiamo riassunto un po' meglio qua al podcastone questa vicenda, quindi se vi interessa potete ripercorrere queste tappe, altrimenti ecco sfrutto questa intro per chiudere la serie di questo podcast su Sam Bankman Fried. E oggi, come vi dicevo rapidamente, vi do due news. Una, per tutti voi, enthusiast open source di Home Assistant, che è quel software per far girare appunto i dispositivi smart home, però in open source e lontano dal capitalismo e dalla sorveglianza, così viene definito, poi lo vedremo, e poi una notizia di security piuttosto frizzante che riguarda Palo Alto Networks. E andiamo. Allora, la notizia su Home Assistant è in realtà la creazione di un nuovo soggetto, una foundation intorno ai progetti di Home Assistant, che non sono solo Home Assistant, ce ne sono un po', e viene creata quindi questa nuova foundation che si chiama Open Home Foundation. Il fondatore è il fondatore di Home Assistant e si chiama Paul Skautzen, spero naturalmente di aver pronunciato bene il suo cognome, se no mi perdonerà e mi perdonerete, e ha un intento anche abbastanza etico, cioè quello di combattere questo che viene definito il surveillance capitalism, cioè proprio il capitalismo della sorveglianza, che naturalmente è fatto dalle big tech, che sono leader del mercato anche dello smart home, degli smart device per la casa, che sono appunto Google, Alexa, Apple HomeKit, anche Samsung, insomma questi big tech. E qui appunto Skautzen e gli altri che hanno creato Home Assistant, e poi anche Nabucasa, che invece è un'azienda for profit, che vende device e subscription per gestire gli device smart home, che poi sostiene il progetto Home Assistant, ecco, hanno creato questo soggetto per gestire i più di 240 progetti smart home che cadranno sotto il loro cappello, tra cui oltre Home Assistant anche ESP Home e ZigPie, e creare un qualcosa che possa resistere appunto alle grandi big tech. Dice Skautzen, parte della ragione per cui abbiamo creato Open Home Foundation è che Home Assistant e tutti questi altri progetti stavano un po' navigando, vagando per lo spazio senza avere una casa formale. Casa, forse non scelto a caso come parola. E naturalmente poi si parla anche della fondazione di Nabucasa, che è il membro inaugurale, il partner principale di Open Home Foundation. Ho qualche dettaglio in più che prendo da Ars Technica, vedete intanto il logo di Open Home Foundation se state guardando, e i principi, i pillars fondamentali su cui poggia questa foundation, che tra l'altro trovo meglio dettagliati qua. I tre pillars sono data privacy, quindi in generale device che abbiano un'opzione di contenere i dati soltanto in locale, senza trasferirli a server cloud, a meno che ci siano permessi espliciti da parte degli utenti. Poi la scelta, cioè la scelta di usare device diversi, di combinarli attraverso standard aperti e API, e poi la sostenibilità ambientale, quindi di non buttare vecchi device, ma riutilizzarli, insomma, senza sprecarli, quindi non gravare sull'ambiente. E per quanto riguarda invece la sostenibilità economica, il progetto Open Home Foundation non è possibile finanziarlo come piccoli contributori individuali, dice il fondatore, per sostenere, per finanziare il nostro progetto, comprate delle subscription di Nabucasa. Quindi questo è un modo per non solo avere un prodotto, ecco, per la propria smart home, ma anche per sostenere Home Assistant e la Open Home Foundation. Home Assistant era nato come un progettino privato di Paul Scouts, appunto, che voleva governare i propri device, le smart lampadine di Philips Hue, e quindi creò uno script Python inizialmente, poi dopo lo rese open source, iniziò ad attrarre contributor un po' in giro, il progetto crebbe parecchio, diventò Home Assistant, appunto, e questo progettino da una cosa amatoriale divenne un qualcosa di un pochino più strutturato, e lui si mise insieme ad altri due programmatori, che sono Ben Bangert e Pascal Vizeli, e fondarono Nabucasa, appunto, per creare un'azienda che potesse anche sostenere economicamente tutti gli sforzi su Home Assistant. E quindi, avendo la possibilità di lavorare full time su vari progetti, poi iniziarono a prendersi la ownership di progetti come ESP Home, e poi contribuire a standard aperti come ZigBee, Zetawave e Matter. C'è, capisco, naturalmente, il rischio per molti entusiast dell'open source casalingo, che questo diventi un soggetto che, innanzitutto, deve fare profitto, quindi deve vendere dei device, tra l'altro arriverà uno starter kit su Amazon, proprio di Home Assistant, perché vuole competere con i big, come quelli che abbiamo già citato, ma Scoutsen dice che vede il proprio target si splittato tra due, diciamo, estremi. Gli entusiast, quelli che vogliono mettere le mani sul codice, manipolare, customizzare le proprie smart home, e invece il consumer normale, che vuole semplicemente comprare un prodotto, installarlo, seguire le istruzioni, e avere le automazioni in casa. Ma entrambi questi estremi, diciamo, dovrebbero continuare a essere, insomma, sostenuti dalla foundation e da Home Assistant, perché la sua natura open source renderà sempre possibile intervenire sul codice, creare personalizzazioni, customizzazioni, ma anche avere dei prodotti che siano facili da vendere, insomma, e anche da installare, per chi invece fa parte della fascia, diciamo, più consumer, più user-oriented. La seconda news di oggi, come vi dicevo, è un po' frizzantina, riguarda la security, e riguarda un'azienda che si chiama Palo Alto Networks, che produce vari device e software per le network e le reti aziendali. In particolare, qua parliamo di un firewall, un firewall che contiene un software, creato sempre da Palo Alto Networks, che si chiama PanOS. Questo software è affetto da una vulnerabilità piuttosto croccante, perché gli è stato assegnato un punteggio di 10, quindi il massimo della scala delle gravità delle CVE. La CVE è la CVE 2024-3400, quindi 3.400, riguarda PanOS 10.2, 11.0 e 11.1, quindi i firewall che montano questa versione del software, e inizialmente Palo Alto Networks aveva detto che riguardava soltanto chi aveva la telemetria abilitata su questi firewall. Poi in realtà hanno fatto ulteriori analisi e hanno invece divulgato l'informazione che non è esattamente così, cioè anche con telemetria disabilitata la vulnerabilità potrebbe comunque essere sfruttata. Ci sono dei fix già disponibili dal 14 aprile, in realtà i team di security che hanno scoperto questa vulnerabilità hanno scoperto che è sfruttata attivamente già dal 26 marzo, quindi è un po' che in realtà qualcuno sta sfruttando queste vulnerabilità piuttosto gravi, e infatti sia Watchtower che Rapid7 hanno rilasciato dei POC che dimostrano quanto è semplice sfruttare questa roba perché basta semplicemente mandare un payload custom in una richiesta get con un cookie di sessione, quindi con sess.id e in questo payload si riesce a sfruttare un directory traversal, quindi con punto punto slash punto punto, creando una struttura di directory che non esiste proprio sul server dove gira questo software e creando così un file in quella directory, un file vuoto che poi però può essere riempito di byte che rappresentano un eseguibile, magari uno script che poi a quel punto viene sfruttato come backdoor e apre le porte al scaricare altro software, ma anche a fare data text filtration, eccetera, eccetera. Dettagli più tecnici su questi li ho trovati sul tech blog CyberKendra che ci dice che questa vulnerabilità in realtà dipende da una dipendenza, quindi siamo sempre nel panorama della supply chain security. Questa dipendenza è una libreria Go, per Go, che si chiama Gorilla Sessions. Questo è un pacchetto che è affetto da una vulnerabilità che è stata tracciata come Go 2024 2730 e riguarda la versione 1.1 e soltanto a chi utilizza File System Store, quindi se siete sulla versione 1.1 utilizzate File System Store di questa particolare libreria, il consiglio è di passare a Cookie Store invece, in attesa che arrivi una patch. Ma insomma, vedete, anche qui siamo di fronte a una vulnerabilità della supply chain software che riguarda una piccola libreria che però ha creato un grosso buco, una grossa falla, i dispositivi che sono enormemente presenti sul mercato. Su Shadow Server i numeri parlano di circa 156.000 device con questo software esposti su internet. Adesso non ci sono ancora le analisi su quanti siano i device vulnerabili esposti, però capite che insomma è un problema abbastanza grosso. Tant'è vero che la CISA, quindi l'Agenzia per la Cyber Security Americana, ha già ordinato a tutte le agenzie federali e i fornitori di agenzie federali di patchare assolutamente questa vulnerabilità critica entro sette giorni, quindi dovremmo già essere tutti a posto, insomma, dovremmo già essere sulla deadline di questa patch quantomeno nel mercato statunitense. Nel resto del mondo insomma bisogna sperare che le aziende recepiscono questo messaggio, patchino i loro device perché altrimenti siamo di fronte all'ennesimo disastro creato da una vulnerabilità presente in un pacchetto che fa parte del ciclo delle dipendenze open source di questo sistema. Quindi siamo sempre sulla supply chain security. Vi lascio con due link oggi. Il primo è un blog post che si intitola Il più difficile problema dell'informatica è centrare le cose. È un post naturalmente abbastanza ironico, molto simpatico l'ho trovato. In pratica fa varie dimostrazioni di come nelle UI di applicazioni web centrare le cose correttamente nei loro container sia apparentemente un problema insormontabile e quindi varie interfacce non riescono a superare questo problema quindi vedete vari esempi di cose disallineate non centrate correttamente un po' riguardano le icone un po' riguardano i testi quindi i font sono esempi di applicazioni molto molto note molto diffuse che non riescono proprio a risolvere il problema della centratura delle cose. Poi si propone anche qualche soluzione riguardo specialmente ai font ha il font design però insomma è al di là della soluzione è un post piuttosto divertente da leggere che riguarda appunto questo problema annoso del centrale delle cose vedete anche un modo molto semplice per leggere questo blog post cioè attivare questa luce gialla per non affaticare la vista affaticare però un po' la mente probabilmente il secondo link che vi do invece è per la vostra pausa di oggi prendetevi qualche minuto e andate a giocare a equinox.space che come vedete è un gioco in prima persona tutto browser based creato con 3JS quindi potete anche usarlo come tech demo per 3JS vedete vi muovete con il mouse cioè in realtà vi guardate intorno con il mouse vi muovete con la tastiera e poi girate intorno a questa astronave insomma in cui siete a quanto pare l'unico superstito dovete capire cosa è successo all'equipaggio vedete qua c'è un ottimo space net probabilmente sono dei nerd informatici che hanno fatto questo gioco perché qua vedete questo terminale con space net dove trovate usenet ftp irk e le email e se provate a connettervi ecco avete questa simpatica schermatina con dei suoni che ci riportano alla mente un passato lontano fatto di connessioni molto veloci e di immagini jpeg che si caricavano dall'alto verso il basso con una certa con una certa lentezza ma insomma poi è un'esperienza interattiva narrativa insomma che potete potete andare a esplorare e in realtà è proprio una dimostrazione di è uno showcase delle capacità dello studio che ha creato questo gioco perché questo è uno studio che crea esperienze interattive di questo tipo per i suoi clienti per ragioni di marketing appunto per chi voglia creare delle esperienze di questo tipo per ragioni di marketing quindi questo studio fa uno showcase delle proprie capacità rilasciando questo gioco che in realtà potete provare tutti vi ripeto il link equinox.space e vi lascio insomma questo giochino che potete fare oggi in un momento di pausa e ho finito grazie per avermi seguito domani non so se ci sarà il podcastone perché poi domani mattina sarò impegnato in un evento online con il progetto We Are Developers la conferenza We Are Developers che fa una live su YouTube e io sarò alle 12 a parlare di WebAssembly e insomma quindi non so se poi riuscirò prima a avere il tempo perché poi devo anche organizzarmi insomma per fare questa roba se non ci sarò vi saluto adesso perché poi c'è il 25 aprile poi c'è il ponte insomma un casino non riusciamo più a vederci quindi intanto grazie per avermi seguito e vi do appuntamento a un prossimo video che butterò sul canale quindi state comunque sintonizzati che arriveranno delle cose va bene a presto ciao 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 ciao